Ah che bello camminare la mattina presto, presto si fa per dire, sono le 8 e faccio una passeggiata, passo veloce, oggi ci sono grandi lavori al parco, una bellissima giornata, forse era meglio andare al mare, però non si può, stamattina stanno pulendo, sono iniziati i lavori di pulitura, forse di reclamare tutte queste erbacce dappertutto, hanno preso provvedimenti, meglio così, mi allontano un pochino dagli operai che stanno lavorando, questa sono io, passetto veloce, non faccio il primo piano, ah che rumore, aspettatemi allontano, stamattina non posso farvi sentire il canto degli uccelli, solo dagli erbre, qualcosa si sente però. Sto camminando perché devo testare il mio cuore, gli effetti delle palpitazioni, fibrillazioni che ho avuto lo scorso anno, però sembra che so abbastanza benino con la cura che mi hanno dato, solo prima di andare in montagna, un altro controllo e un po' di allenamento, certo. Guardate che bel panorama che abbiamo, adesso c'è un po' di foschia, altrimenti delle volte si vede il mare, riusciamo a vedere addirittura le barche, giù c'è Torvaiani che poi più giù ancora non si vede, dietro c'è Anzio, di là c'è Pomezia e Roma, anche adesso è coperta per gli alberi. Allora, volevo approfittare di questo vlog per dirvi che adesso come arriva il caldo, sicuramente con il pane, con i video dove c'è bisogno di accendere il forno, allento un pochino, però adesso continuo fino a che non arriva proprio il caldo. Bene amici, io vi ringrazio, siete sempre più numerosi, abbiamo superato ormai 4300 iscritti, pensate che l'anno scorso ero sotto i 1000, mi scuso ancora se non riesco a rispondere a tutte le domande che mi fate, perché poi non sempre sto sul cellulare a vedere le notifiche. Ok, io continuo la camminata, vi faccio vedere ancora una volta il parco, lavoro in corso, stamattina l'astuce a Villa Sforza, salendo, mi sembra già vi ho fatto vedere una volta, c'è un bellissimo panorama e dei giardini stupendi, con il tempio giunone sospita. Bene, vi saluto a tutti, continuo a camminare e ci vediamo al prossimo vlog o video. Un bacione, ciao, ciao, ciao!